Occorre fare presto perché circa la metà dei voucher in agricoltura viene impiegata per la vendemmia che quest'anno parte con gli inizi di agosto. A dirlo è Roberto Moncalvo, presidente della Col di Retti nazionale, che chiede al governo e al vice premier Luigi Di Maio la reintroduzione immediata dei voucheri buoni in lavoro. Se da una parte il ministro del lavoro ha accolto la richiesta, CGL, Cisle e Will stanno protestando davanti a Montecitorio perché spiegano questo metodo di pagamento che interessa anche il settore del turismo favorirebbe irregolarità nel lavoro. E' evidente che è un lasci a passare e si spalancano le porte al lavoro nero, ai furbi e al caporalato e allo sfruttamento in agricoltura perché l'avevamo visto prima quando i voucher erano diffusi, prima che venissero aboliti e che fosse fatta la nuova legge molto più restrittiva, che avevano una diffusione enorme e le aziende fanno le furbe, comprano i voucher, li tengono lì, se c'è l'ispezione lo tirano fuori il lavoratore regolare o i voucher, se non ci sono i controlli il voucher non viene utilizzato. Protesta condivisa anche da Filippo Pieri della Cisle Romagna e da Marcello Borghetti della Will, i quali assieme alla CGL si battono perché i voucher non vadano a sostituire il lavoro stagionale agricolo.